17 ottobre 1849, muore a Parigi uno dei più grandi pianisti di tutti i tempi, Frideric Chopin. Nato in Polonia nel 1810, diventa uno dei principali rappresentanti del romanticismo. Soprannominato il poeta del pianoforte, si trasferisce ventenne a Parigi e nel 1838 incontra e si innamora della scrittrice Georges Sand. La fine della loro relazione, intensa e conflittuale, lascia Chopin in uno stato di profonda depressione. Il dolore per l'abbandono, insieme alla sua fragile salute, porta alla morte del grande compositore.